oggi non sapevo proprio cosa cucinare ma scorrendone per te mi sono usciti un sacco di ricottare e ho deciso di fare la pasta con la ricotta un piatto veloce molto semplice da fare piace un po' a tutti. Mettiamo la nostra ricotta in un contenitore e la schiacciamo perché dopo ci dobbiamo aggiungere l'acqua della pasta e uno bucavo che sa già. Mesiamo la pasta giusto per due persone stiamo andando incontro all'estate e ci dobbiamo mantenere un po' l'acqua bolle aggiungiamo un po' di sale e penette ligate come se piovesse prendiamo un po' d'acqua della pasta e l'aggiungiamo alla ricotta. Ovviamente non esageriamo se non diventa troppo liquido. Vedete com'è cremosa? La pasta è pronta è arrivato il momento di impiattare. Giusto l'assaggino ma noi aggiungiamo un po' di parmigiano come la neve e un pizzico di pepe e vediamo com'è se è venuta buona oppure no. Buon appetito a tutti e grazie per lo spunto che mi avete dato per quest'oggi. datemi altri consigli per le prossime ricette. Buona giornata a tutti. bene grazie a tutti